Si innamorano dell'uomo. Finalmente ho capito da che cosa dipende il crollo di nascite del mio allevamento di falchi. I falchi si innamorano dell'uomo e snobbano i loro simili. Commento. L'animale che si avvicina alla vita dell'uomo prepara la sua entrata incarnativa nel regno umano. Ma come? Essendo attratto dall'uomo e iniziando ad amare l'uomo. Simile all'esempio del falco è il delfino che si innamora del suo addestratore. Per non parlare del cane che spesso è più vicino alle incarnazioni umane della scimmia perché convive con l'uomo. A differenza della scimmia grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.